Vincenzo Sofo ha concluso il primo mandato a Bruxelles, eletto nelle fila della Lega a 32 anni, uno dei più giovani parlamentari, ora si ricandida dopo essere passato nel 2021 a Fratelli d'Italia nel gruppo dei conservatori. Cinque anni passati in una commissione molto importante come una commissione affari interni dove mi sono occupato di immigrazione, di temi etici, di intelligenza artificiale, di privacy, di abusi sessuali sui minori e sul web tra l'altro e di tante altre cose, di ambiente e di salute pubblica perché anche quella è stata un'altra mia commissione. Cinque anni che hanno visto lo sconvolgimento degli equilibri geopolitici internazionali e anche lo sconvolgimento di un'Europa che è uscita dal torpore che adesso deve decidere da che parte andare e che cosa vuole fare da grande. Sofo ha contribuito al nuovo patto dei migranti. Siamo riusciti a ottenere per esempio del maggiore efficacia da un punto di vista dei rimpatri, delle procedure di rimpatrio, maggiori filtri, controlli alle frontiere quindi nel primo arrivo. Invece non siamo soddisfatti, infatti abbiamo votato contro, nonostante in realtà molti media non l'abbiano raccontata come cosa, la ridistribuzione dei migranti. Tante critiche nei confronti dell'Europa, forse eccessive. Attenzione, noi abbiamo bisogno d'Europa. Noi abbiamo bisogno d'Europa e la destra è un mondo che più di tutti ha sempre invocato un'Europa forte, un'Europa soggetto geopolitico. Il problema è che abbiamo avuto un'Unione Europea che in questi anni si è occupata di cose che dovrebbero essere competenza degli stati nazionali, insomma dovrebbero essere lasciate alla sussidiarietà territoriale e invece è stata colpevolmente e drammaticamente assente in quelli che sono i temi strategici. Secondo Meloni, presidente del gruppo europeo dei conservatori, c'è margine per costruire una maggioranza diversa al Parlamento europeo. Speranze confermate da Sofo che tra l'altro è il marito di Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen che fa parte in Europa dell'estrema destra. Noi passeremo da Gentiloni, commissario europeo italiano, quota PD, a un commissario europeo italiano che sarà invece quota centrodestra e se tutto andrà bene riusciremo anche o ad avere una maggioranza di centrodestra o a fare un blocco di opposizione molto forte, molto influente che riuscirà comunque a mettere in serie a difficoltà la maggioranza di sinistra.